Ecco come proteggere la tua azienda dalle cyber minacce. Sono Mattia Giordano, direttore tecnico di Punto Com. Oggi vorrei cercare di spiegare come si può proteggere la propria azienda dalle minacce sulla sicurezza informatica. Mi piace sempre partire dal concetto di che cos'è la cyber sicurezza. In realtà si sente parlare molto di attacchi informatici, di sicurezza informatica, ma spesso ci si sofferma poco sul vero senso di questa attenzione che dobbiamo porre proprio sugli strumenti informatici. Perché come proteggiamo casa nostra, per esempio mettendo delle finestre o delle serrande o un antifurto, chiaramente anche la parte server informatica, i file stessi che custodiscono il nostro know-how, quindi i nostri dati e il nostro sviluppo aziendale, devono essere tutelati. Tutelati da tante minacce. Pensiamo ai ransomware, che sono appunto dei virus specifici che vengono spesso mandati via mail, oppure basti pensare anche solo a un guasto hardware del server che custodisce i dati. In realtà quando parliamo appunto quindi di cyber sicurezza dobbiamo considerare tantissimi aspetti. Noi con il nostro staff in .com chiaramente abbiamo l'attenzione nel cercare di capire quali possono essere le specifiche esigenze dell'azienda, perché l'azienda che fa metalmeccanica sicuramente ha altre esigenze rispetto a un'azienda che lavora magari nel settore finanziario e bancario. Quindi il nostro focus è proprio quello di andare a capire con il cliente quali sono gli aspetti importanti per la sua azienda. Chiaramente possiamo spiegare in tantissimi modi quali sono le minacce vere e proprie. Posso fare esempi come può essere la mail, come dicevo prima, la ricezione di un allegato malevolo con un virus, può essere un accesso non consentito da parte di esterni. Allora, su cosa dobbiamo focalizzarci veramente? In primis io partirei dall'educazione dell'utente, perché il primo antivirus siamo noi, il primo antivirus è l'utente stesso. In secondo luogo, chiaramente, dobbiamo adottare dei sistemi di sicurezza passivi, attivi, come possono essere antivirus o firewall perimetrali. Noi di .com possiamo studiare la soluzione migliore insieme per la tua azienda. Per maggiori informazioni, contattaci in ufficio oppure scrivendo a marketingchiozzola.comgroup.com Grazie a tutti.